Mi è venuto il mal di pancia, mi è arrivata l'ambulanza, mi è venuto anche un malore, dice il dottore, è un segnale chiaro che ora deve proprio fare ginnastica, ginnastica. Troppe merendine aperte, poca voglia di saltare, la pigrizia è da evitare, dice il dottore, se vuol migliorare è certo che deve fare ginnastica, ginnastica. E ti viene voglia di gridare a tutto il mondo che non fanno male, le varanelle. Oh, 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 devi fare ginnastica, saltellare su e giù, oh, 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 è una questione di pratica, con le mani su e giù. Oh, 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 devi fare ginnastica, saltellare su e giù, oh, 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 è una questione di pratica.